Ehi la, salve a tutti, ben ritrovati in questo nuovo video, video degustabox dove spacchetto con voi, ho solo tolto lo scotch, il nastro in superficie, non so ancora il contenuto, ho evitato qualsiasi spoiler, perdonate se questo video per questa volta lo giro così, non facendomi vedere, ma tutto di fretta e avevo tanto piacere di tornare con un video nuovo dove almeno mi facessi sentire. Spero per voi che vada tutto bene, di recente ho letto qualche messaggio anche inerente a ricordi dell'anno scorso di questo periodo, non resta che condividere un enorme abbraccio a tutti voi e di stare ancora forti per questa situazione. Allora, apriamo, 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 come stavo dicendo io non ho evitato qualsiasi spoiler, infatti non ho controllato nemmeno su Instagram né su Facebook la pagina della degustabox, perdonate il cerottino ma ieri mi stavo letteralmente tagliando una falange della mano. Poi il sigillo, in sottofondo sempre i coco. Allora, la degustabox si presenta sempre a solito modo, magari lo ricordo per chi stesse arrivando qui per la prima volta. Si presenta con superficie le varie brochure sia di alcuni prodotti particolari del mese, in questo caso c'è una brochure del Parmalat del latte Zimil che comunque io già avevo trovato in un'altra degustabox precedente. Ora, non so se questi sono i latti vegetali ma lo scopriremo adesso spacchettando con voi la degustabox. Allora, questo è l'elenco dei prodottini che si troveranno qui all'interno e se tanto mi da tanto che ci sono i cereali sono contentissima perché li avevo terminati ed ero così con il punto interrogativo per se comprarli o meno. Non li ho comprati ieri perché ancora sto consumando le fette biscottate integrali trovate nella degustabox precedente. Come vedete comunque sì, è un acquisto, un abbonamento a scatola chiusa nel vero senso della parola, ossia non si sa il contenuto dei prodotti, però siccome comunque si compila un sondaggio con le preferenze, eventuali allergie e cose di questo tipo, quindi alla fine studiano delle box su quello che sono gli usi comuni della famiglia o della persona che comunque ordina la degustabox. Metto da parte la brochure, ecco qui quella dei cereali, della Kellogg's, contentissima perché già li conosco e li amo e quindi giro la degustabox perché è al contrario. Cosa si trovano in questo mese? Allora, fiori d'acqua con farina integrale ricchi di fibre, praticamente sono dei cracker che però sono leggermente credo maciullati perché si sente un pochino. Ovviamente i correri non è che hanno tutta sta grazia nel trattare i pacchi, non sempre almeno e quindi capita qualche prodottino un pochino mal ridotto. Praticamente sono dei crostini integrali e sono contentissimo, magari mi aiuto con la brochure. Sì, sono croccanti e ricche di fibre, sì sì, sono dei crostini, bene, bene, bene e questi saranno sicuramente qualcosa da provare nell'immediato. Poi le gocciole a cocco, queste io le avevo viste su internet, su Instagram, anche perché gli stanno pubblicizzando vari anche influencer che li stanno comprando, insomma, le assaggino e condivido le loro recensioni e sono contentissima di averle trovate. C'è qua una faccetta che mi guardo con gli occhi a cuoricino e quindi anche queste saranno da assaggiare. Gocciole a cocco, non vedo l'ora di provarle. No, li metto da questa parte per evitare che vengono rubate perché poi devo fare la foto di anteprima. Questo dito è un monitor per chi sta guardando lo spacchettamento. Oh, Zimille, che cos'è allora? Allora, mi sembra, mi sembra, senza lattosio, così è latte, latte fonte di fibra e vitamina D per la flora intestinale. Bene, anche questo, avevo deciso un po' di cambiare la mia routine della colazione, quindi comprare del yogurt piuttosto che il latte, ma visto che l'ho trovato qui nella degustabox rimanderò l'acquisto e quindi prima consumerò questo. E anche queste, quindi, approvatissima. Poi vi faccio vedere un po' così e poi così. C'è stato un sorriso a 360 gradi. Pavesini double, pavesino sopra, cioccolato sotto. Una confezione sola che dovranno litigarsi due fratelli. Sono sei biscottini. Io lo sto dicendo a voi, ma è anche una comunicazione per chi sta guardando. Poi c'è qualcosa di vetro, perché quando impacchettano così vuol dire che è qualcosa di fragile. E questa ora ci saranno altri occhi a cuoricino. Che cos'è? Sembra una birra. È una birra. È una birra, si chiama birra 8.6. Scopri il gusto intenso della birra a doppio malto, Red. Ora è disponibile anche in bottiglia da 33 centilitri. Una birra ricca e corposa che offre un insolito mix di note dolci e amare, unite a gradevoli sfumature di malto e caramello. Priva di aromi e coloranti artificiali. Bene, dopo aver letto tutta la descrizione della birra, scusate se rido perché sto spacchettando cose di interesse del figliolo. Ecco, poi un'altra cosa fragile, praticamente sto girando con una mano, sto tenendo il telefonino e con l'altra sto spacchettando con voi la degusto box. Che cos'è questo? Un drink? Detto. Aceto di mele con fragole. No vabbè, aceto di mele. No vabbè, alle fragole. No. Sono senza parole, senza parole. Questo sarà sicuramente da provare nella prossima insalata, praticamente stasera, approverò questo aceto. Veramente è una cosa... Avevo intuito che c'era nella box un aceto, ma non credevo a questo tipo di aceto. Allora io l'ho trovato aromatizzata alle fragole, ma dalla brochure, che è qui, scopro che c'è anche in altri gusti, però un solo prodotto, non c'è scritto quali tipi. Aceto di mele... Vabbè, io non c'è scritto con gli altri due tipi, comunque il mio è alle fragole. Un'altra cosa che piacerà sicuramente ai ragazzi sono queste qua, le barrette multicrain con cioccolato e scagliette. Con scagliette di cioccolato, sempre senza glutine. Spesso si trovano cose senza glutine nella degusta box della macchia e nicoli. Anche queste sicuramente termineranno, ancora men che non si dica. E poi c'è una cosa, Oreo, e questo... No, vabbè, anche questo. Oreo Banadas. Che cosa sono? Allora, vediamo se c'è una spiegazione in italiano. Sono dei biscotti sicuramente, ma non riesco a trovare la spiegazione. Vabbè, me la prendo da qua, dalla brochure. Allora, sono il biscotto Oreo ricoperto da una golosissima copertura al gusto di cioccolato al latte oppure cioccolato bianco, per un'esperienza di extra gusto straordinaria. Insomma, sono gli Oreo però glassati al cioccolato. Io ce li ho al cioccolato al latte. Nemmeno sapessero veramente i gusti della famiglia. Anche questo saranno da provare anche subito. E poi... Pancake! Vi faccio vedere qua la regia. Pancake con gocce di cioccolato Marca Brioche Pasquare Spero di aver pronunciato bene Per otto pancake Colazione pronta domani mattina Se arriveranno alla colazione Perché poi qua le cose della colazione li mangiano tipo dopo cena Questi per esempio non li guarderanno assolutamente Perché li andrò a nascondere I Kellogg's senza zuccheri aggiunti Granola praticamente con frutta secca A lei, a lei, a lei Sono contentissima perché come detto dall'inizio del video Dovevo comprare dei cereali Stavo temporeggiando e ho fatto bene a temporeggiare E poi Cosa ho trovato? Allora se mi seguite nella pagina Instagram Io sono stata contentissima di aver trovato la pasta Tutta made in Italy E sono contenta che stanno continuando su questa linea Questa è Spero che la pasta sia già spezzettata di suo Perché se si è ridotta così per via dell'impallaggio Vabbè ci faccio la minestra Allora Pasta del verde Formato lungo Sì una volta formato lungo Perché qua Già si vede che Del formato lungo è rimasto ben Guarda Diciamo sono Spaghettini ecco Da fare con A per minestra ecco Non lo so Poi vedi il resto del contenuto come è ridotto E questo invece che cos'è? Gemme di mare Gli integrali Sale grigio dell'Atlantico Ok sarà un sale più grezzo E quindi Il sale Gemme di mare Un pacco di sale Sale grosso Ci mancava il sale? No non ci mancava il sale Però buono anche se si è trovato Che cosa ha di particolare questo sale? Dalle storiche saline della Bretagna Noi che abbiamo le saline qui in Sicilia Comunque Un sale marino raccolto a mano Mediante un antico sapere artigiano Umido e naturalmente ricco di oligoelementi Deve il suo colore grigio perla All'argilla contenuta nel terreno dei bacini salati Cioè praticamente È un sale non pulito Sì perché Ve lo dico Perché se seguite lo scienziato Dario Bressanini Ha spiegato benissimo Che non c'è nessuna Effetto Miracoloso Del sale Dell'Himalaya O qualunque tipo di sale Di un colore che non sia sbiancato Cioè solamente sale sporco Quindi anche se qua ora stanno pubblicizzando Chissà quali benefici di questo sale Non è nient'altro di meno Che sale appunto sporco di argilla Questo è Quindi male non fa Ma nemmeno ha affetti miracolosi Benefici di chissà che È adatto a tutti i tipi di preparazione Vabbè c'è sempre sale Comunque non è che alla fine Cambia qualcosa Bene Forse ecco L'unico punto interrogativo È sul sale Però ci sta via Su una box di tutti questi prodotti Ci sta che qualcosa magari Non sia proprio il top delle preferenze Comunque ci sono poi i sondaggi E uno lo mette lì nel sondaggio Se la cosa è stata gradita Non è stata gradita È un buon modo per loro Anche di orientarsi sui prodotti Prodotto del mese Quindi pavesini E noi sicuramente Lo faremo diventare Il prodotto del mese Perché Men che non si dica Li faremo sparire Giusto il tempo di fare la foto Ecco Che metterò poi in anteprima È su Instagram A proposito di questo Seguitemi giù Nella scheda informativa Ci sono tutti i contatti Sia per l'account Instagram Che per la pagina Facebook Ci tengo Se volete Che mi seguiate anche lì Dove magari pubblico Più foto E più contenuto Rispetto a YouTube Che ultimamente Per mia mancanza di tempo E per situazioni Che comunque Richiedono La mia presenza Più costante Mi stanno togliendo Del tempo Da dedicare al canale E mi dispiace Cerco comunque Di fare del mio meglio Per esserci Per non farvi Dimenticare di me Bene Detto ciò Io vi saluto Magari Ecco Toggo questa scatola E vi faccio vedere Un po' Il contenuto Così generale Della Della Degusta box Che devo dire Veramente Sto apprezzando Tantissimo E anche Chi è qui In cucina Con me Che sta Guardando Sono Non si tocca C'è Ecco una mano Si è visto Una mano Non si tocca Perché adesso Io farò la foto Di rito E poi E poi via E poi non ci sarà Più niente Praticamente Ecco Chissà come farò Le foto Per Da mandare Poi alla Degusta box Perché c'è Ogni mese Anche un contest Dove si possono Mandare fino a Cinque foto Utilizzando I prodotti Che si trovano Nella Degusta box E poi verrà Sorteggiato Entro quella data Che loro stabiliscono Cinque nominativi E vinceranno Venti punti Ecco Oltre questo Vi ricordo che Se volete provare La Degusta box Ad un prezzo speciale Di 9,99 euro Giù nella scheda informativa Trovate anche Il mio codice sconto L'abbonamento E sì Mensile Però poi Potete disattivarlo Anche Dopo il primo acquisto Quindi non siete obbligati A continuare Dopo il primo acquisto Di 9,99 euro Poi per i restanti mesi È 15,99 euro E poi dipende anche Che tipo di abbonamento Uno fa Detto ciò Io vi saluto È stato un piacere Per me Girare questo video Per voi E noi ci vediamo Sia giù nei commenti Spero che me ne lasciate Quindi commentiamo insieme Il contenuto Della Degusta box E ci vediamo anche Prossimamente Con altri video Vi salutano anche i Coco Ciao